Io sono Gabri Costa ragazzi, statemi a sentire, in questo Spyro 3 versione remake della PS4, visto che siamo ad altari congelati, dobbiamo vincere un punto di abilità, bisogna battere lo Yeti in due round, visto che siamo su questo ring della box. La box non è stata il mio forte, ma sono costretto a farla. Mi dispiace, ma devo fare questo video per voi. Certo che parlare della box è una cosa molto bella, ma anche sportiva. Fa ricordare anche il videojoo della PS1 Victory Boxing 2. E poi c'erano dei concorrenti con i guantoni blu e rossi, tipo Don Brown e Lennox Edges. Stiamo andando benissimo. Ce l'avevamo quasi. Mancano solo due round, stai andando alla grande. Io sto andando alla grande ragazzi. Dai che siamo vicinissimi, devo vincere il punto di abilità. Nel primo round sono andato benissimo. Ora finiamo il secondo, perché se arriviamo al terzo round il punto di abilità non si vince. Bene, ce l'abbiamo fatta. Vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Abbiamo ottenuto il punto di abilità. E sono un altro stupido uomo.